...diziano da Maxino, e cioè il 20 Zierensky, 30 Rob con il 62 Torelli con il 77 M2 con il numero 94 Roberto Crisini. Alla prossima! Il Raikus Allenatore Massimiliano Con il numero uno Gianluigi Numero tre Giorgio Giammo Con il numero cinque Meren Numero sei Semi Numero nove Gonzalo Numero unici Anderson Numero dodici Alex Santo Numero quindici Andrea Adatti Numero diciassette Mario Adatti Numero dicionave Leonardo Adatti Numero quindici Stefan Di Stavre A disposizione Con il venticinque Neto Quattro penalti a Sette quadrato Otto Marchesio Diciotto Lennina Con il venticinque Manzano A venticinque Alves Con il venticuattro Rugani Venticinque Sturano Trenta Piappola Con il numero Trenta Quattro Ken Bianconeri Sulle scelpe